Siamo arrivati a questo punto, sappiamo contro chi giochiamo, sappiamo che avversario sarà, sempre all'insegna del fair play, però sarà partita dura, partita vera e daremo il meglio, speriamo in bene. Davide avete già avuto occasione di incontrare questa squadra nei nostri tornei? Sì, diciamo che l'abbiamo affrontata due volte, noi non l'avevamo al completo, la prima partita, la seconda avevamo un innesto importante che è Scoppelliti e loro hanno una grande assenza, secondo me, non so il nome, però è un giocatore importante che gioca dietro, noi stasera arriviamo al completo e quindi noi scusanti non ne avremo, sarà una partita come ha detto il capitano della squadra Phantom Player, molto corretta, l'insegna del fair play, però di certo sarà una partita dura, tosta e con tanti spunti di qualità, penso una finale anticipata. Ok, grazie, buona partita a tutti. Grazie, buona partita a tutti. Grazie, buona partita a tutti. Grazie. 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 Grazie.